Dal Valdarno al capoluogo regionale e soprattutto dal dilettantismo della nostra zona alla Fiorentina. Gran salto lavorativo per Nicola Cacciapuoti che è andato a svolgere il compito di addestrare i giovani della cantera viola tra i pali. A lui appunto il compito di far crescere i ragazzi del 2005-2006. Una testimonianza questa dell'ottimo lavoro svolto anche in Valdarno nell'ambito dei portieri. Il mio compito sarà quello di allenare i portieri come ho sempre fatto nelle annate 2005-2006. Mi dovrò dedicare a quell'area di riferimento e cercherò di fare il lavoro come ho sempre fatto. Le sensazioni, intanto come sei stato contattato? Sensazioni positive. Mi ha contattato il direttore Nicolini, mi ha fatto andare giù in sede, abbiamo parlato, abbiamo trovato un accordo in via di Massima e poi sono stato richiamato per definire tutta la situazione e da lì in poi ora parlerà il campo. Diciamo che è stato riconosciuto il fatto che sotto di te sono passati diversi ragazzi che hanno, magari non tutti poi sono riusciti a rimanere, però che hanno provato a fare il salto interessante. Mi vengono in mente due o tre nomi ma te li lascio fare a te. Sì, sì, sì. Diciamo che ho avuto la fortuna di allenare i ragazzi e poi hanno provato anche l'esperienza nazionale. Vedi Matteo Morandini nel 94, vedi Filippo Berti nel 95 e senza nulla togliere agli altri che ho avuto anche altri portieri come Giacomo Brandi e Matteo Bonechi che sono due portieri con tanta esperienza e molto bravi. Quindi la fortuna è stata la mia a allenare loro e sicuramente hanno aumentato il mio bagaglio tecnico e magari oggi mi ha permesso di poter essere dove sono andato. Sei già operativo? Sì, sì, ho già iniziato da due giorni. Sì, ho conosciuto l'ambiente, ho conosciuto i ragazzi e devo dire mi trovo bene, mi trovo a mio agio e poi per quanto riguarda il lavoro penso che sia il mio punto forte.